Questa è la nostra missione. Mi piace invitare la gente a sorridere. Ecco perché da sempre ci preoccupiamo di dare a tutta la famiglia efficaci difese antibatteriche. Il dentifricio al fluoro numero uno nel mondo. L'imbattibile colgate antitarter. E il primo in Italia col bicarbonato di sodio. Fino ad arrivare ad una formula avanzata, che protegge i denti anche tra una pulizia e l'altra. Con la ricerca continueremo a migliorare i nostri prodotti. Per non far cambiare a voi il vostro colgate. Denti bianchi, denti sali, bocca pesca tutto il giorno. L'ho già detto, mi piace invitare la gente a sorridere.